ehi ragazzi ciao a tutti da nick e bentornati qua sulla nick craft ragazzi finalmente guardate chi vi ho portato il signor poddy a tutti allora ragazzi come sempre vi raccomando spolliciate in tanti se volete altri video se volete magari altri video insieme a poddy mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina un'altra cosa ragazzi è da tanto che mi chiedete naturalmente questo mod pack guardate in descrizione che vi lascio il link per poter scaricare il mod pack così come ha fatto ovviamente poddy allora poddy che si fa oggi oggi ovviamente con poddy si va un po in giro in esplorazione vediamo un po che cosa troviamo ovviamente poddy vuole anche lui una pistola una in più una in più ce l'ho in più ragazzi gli diamo quelle cose che ho trovato in giro ovviamente perché ma ancora siamo dei poveracci che ti manca forse la pettorina l'elmetto all'elmetto e dove te lo metto di certo non lì dietro perché hai questi pensieri così perché ti ho letto nel pensiero già a me mi legge nel pensiero po di ragà ma io questi pensieri non ce li ho no tu l'hai pensato io sono sicuro anche voi che secondo voi anche voi secondo voi guarda sai cosa sai cosa ti so is the world aspetta non ti do questa fordita ammettiti questa questa che non per me dire che è stacca è così non me lo può mettere a mettere accidenti che peccato e almeno me la madre andava in giro con l'azzo poi e l'ho trovata non lo so ce l'avevo un mostro ecco allora non mettere se non lo so pensavo che si poteva indossare allora comunque dovrei fare un po di munizioni la pistola ce l'ho ma non ho le munition liad e copper sì sì c'ho tutto vediamo un po se riesco a fare delle munizioni ok ti sto a fare le munizioni per la pistola intanto ragazzi gli pigliamo una bella pistola a poddy come stavo siccome stavo premendo tasti a caso e ho detto ho fatto già andare quindi niente vieni 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 una pegola dai su sì sì tanto ma di notte uscire così disarmato senza come disarmato tutta da pistola ha disarmato che che fa sito aspetta aspetta vieni 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 ma io sparo io a quella pecorella aspetta te la niente si ce l'hai in mano si è uscito è uscito e succede che ho sentito dei vesti assurdi strani molto molto compromettenti per un gioco del genere non lo so po di aspetta cinghiale già mi ricorda qualcosa aspetta 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 ha visto una pecorella no ma che non gli devo sparare vero e c'ho questo l'ho dimenticato va bene tanto per vai ok a qui ocio dietro ocio dietro ragazzi siamo su the walking dead altro che veramente è fighissimo è che possiamo andare di notte ocio cinghiale vuoi che ma necchia e necchia e non muore vabbè è normale ai cinghiali due colpi ce li devi dare sono duri e questo tasso che fa a vieni sopra potti va un letto ciascuno dormiamo così facciamo anche l'altro guardi mentre dormo o ma che vuoi tu ma io mi guardi tu a me mi piace vedere che mi fissano mentre dormi visto perché non fai di notte scusa te che te frega vabbè vabbè lasciampe dei fucile i colpi del fucile perché non ho ben capito come si fanno perché pare che si fanno lo stesso modo dei proiettili della quello che è un fucile no c'è anche questo però mi è il cannone l'ho usato per ammazzare il naga comunque che naga che aspetta sì ma i letti ce li portiamo perché ovviamente se fa notte che fa se fa notte non c'è mica voglia di tornare a casa per dormire alice la base militare il problema anche se siamo in due raga non lo so ma i colpi ce li abbiamo però ma che sto buco che c'è qua o c'è non ci cadere nei buchi quale buco vabbè io ti aspetto se ti rimane aspetta ma forse ti faccio la circonferenza con pallazione aspetta dov'ai che qua ci stanno i nemici non andare di qua poti si aspetta sventi figli ha preso la pagante ci lasciamo le penne qua a pari che ho capito poi esploso uno perché l'ho visto ho fatto mingo ma non so fanno male ma troppato qualcosa che mi ha troppato mi ha troppato un'arma bella ma troppato shotgun hai visto potere andiamo andiamo però veloce veloce cavolo ce ne stanno altri anche per 25 anni da un copro aiuto sì ma che cacchio di poteva ai 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 avanti ma no sono morto mannaggia vivo ma so guai ho perso il mio bel piccone per su tutto No, no, riprendo tutto io Devi spaccare la bandiera Potti, spacca la bandiera È troppo tardi Lo sapevo io, raga La base militare è impossibile Perché spavano sempre, vero? E spavano sempre, sì Poi è bello, ho preso il fucile a pompa Questo Q2 colpi, che io ho sparato 5 colpi per far fuori uno Eh, mo' è vero Mo' non ci possiamo tornare Perché quelli ci ammazzano Sì, mo' quelli ci ammazzano E se, e Nick, senti qua la strategia militare di Poderak Eh Che abbiamo un tunnel da sottoterra Eh, può essere un'idea Vai sopra, poi rimetti il blocco E scappiamo da lì No, veramente, se io ci vado di sotto io spacco la bandiera, guarda Nick, che genio del male Poderak A Poderak, si è baggato, si è baggato anche no, forse che no Eh, però, no, non c'ho niente Mi devo crafta qualcosa Non c'ho proprio più niente Eh, va beh, ma due rocce le trovi, dai No, no, che rocce? C'ho un mucchio di metallo qua, quale rocce? Eh, due piccoli, due piccoli E due che due piccoli, due palle Lo lasciate quindi Eh, ma il cibo scade, non dura molto Ah, scade? Sì Cioè, diventa la marcia dopo Bravo Va, pigliati un, quella roba, là Ok Posto, dai, andiamo, Nick Andiamo all'avventura Allora, andiamo all'avventura Andiamo all'avventura, devo andare a recuperare le cose, altro che avventura Eh, sì, guarda che guerra, guarda che Anche se siamo disarmati, stiamo andando in guerra, Nick Eh, ma no Dobbiamo tornare vittoriosi Eh, ma il problema è trovare... Riuscire a trovare poi il coso, come si chiama? Devo trovare da sottoterra la bandiera, mica è facile Va bene, ma più o meno la vediamo da sopra Sì Benissimo, ragazzi E vai, che bello Però, qua bisogna farcela A mo' se non fanno fuori sta base militare E speriamo che poi ci sta qualcosa di bello in sta base militare Eh Attenzione, attenzione che arriva... Ok, non arriva più nessuno Allora, avviciniamoci, avviciniamoci quanto più possibile Aspetta, ma io come faccio a vedere dove sono morto io e dove sei morto tu? Quale è il problema? Beh, ma tanto più o meno mi ricordo dove eravamo andati, quindi qual è il problema? Ah, lì, 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 è vero, vero, vero PM3, 4, ah sì Sì, sì Che cacchio è, oh! Che cacchio è sto coso? Pensavo che eri tu Pensavo che eri tu, ma chi è questo? Che cos'è che era quello? Uno scheletro gigante Uno scheletro a dir poco pericoloso Scavare da qua? Sì, sì Uh! Oh, DJ come avete fatto a vedersi? Eh no, ce n'è uno vicino Eh, direi di scavare da qua allora Sì, sì, aspetta, ha capito dove è la bandiera, da qua non si vede Dovrebbe essere a sinistra Quindi, ok, basta, ho capito, scavo per di qua Vai Eh, che noi incontriamo là Eh, vabbè, ma se te me... Ah, lo scavo io, scavi tu, vedete? Ma se no, ti fai il tuo buco, se ti piacciono i buchi Ma che cacchio? Dai, ti metto le cose in testa Aspetta, in testa... Oh, poddy, però se te metti davanti io non ci vedo Io sono dietro Eh, è lì che mi preoccupo Ma adesso vai tutto sempre dritto Vavo Ma intanto sai cosa? So dove fermarmi perché bene o male c'è la X Però... È vero Oh, cavolo, chi è? Questo scende, no? Tappo Ok Oh, ancora sappia, ma che è? Oh, no No, Nick, ma è allagato Eh, vabbè, conviene deviare, va Crea un... Eh, vabbè, a me io mo' come faccio? Che sono finito a Roma Sì, a Roma Sì, che non mi morire è venuto Ok Mi trovo sotto qualcosa No, ma se saliamo moce, crepo Però ci devo provare, mi sa Ma hanno i cavalli pure queste? Eh, no Grazie Oh, no, 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 no Così non mi piace, così non mi piace Non mi piace Ok, aspetto, io vado a vedere cosa vedo No, dicca, non mi morire Eh, non è bello Ok, qua non va bene Che succede? Nicky, ok Venta Militare, militare Ok, vieni qua, vieni qua che lo faccio fuori Vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua Vieni qua Vieni Vai, vai, che te qui le posso... Sì, vabbè, ma pure che le faccio fuori Che ci risolvi Eh, infatti, c'è ancora la bandiera Oh, cavolo, pure seppente Eh, messi i seppente li sta ammazzando Ah, è veramente No, che scelta mi sto perdendo Che c'è? Stanno sparando al seppente No, che cacchio fai? È entrato Ma perché hai tolto il blocco? Oh, ma non è che c'è data una pistola? No, che si dà una pista Se non trovo Se non trovo la bandiera Non ci siamo Ho voce che non vorrei che entra qualcuno Aspetta, no, no, chiudo Dove cacchio ha la bandiera? Non la vedo Non passare, Poddy Ragà, questa è una missione Ci stiamo infiltrando in una base militare Aspetta Eccola, la vedo Ok, l'ho vista Ma pure questo qua Ma non muoiono Togli, 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 togli Mazzalo, mazzalo, mazzalo Ammazza, buono Porto Chiudi, 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 chiudi Prima che ne vengono altri Togli, ti dili Togli, ti dili Che è successo? Che è successo? Eh, oh Ma, maronna Non ti dico Mi ha dato delle shotgun Ma il bello è che, raga Se clicco su Poddy mi dice Chiedi di sposare Ma che casca tu, Mary Cosa che c'è? Ma mamma mia Ma hai fatto Poddy, non devi toccare niente Ci abbiamo quasi lasciato le penne Su senza cibo Ma io non ho fatto niente Guarda, non vuoi un po' di cibo Aspetta La bandiera è un po' più avanti Micà, qua è mission impossible Eh, la bandiera la avete più avanti Mo' piano piano Ah, ma hai dato Vabbè, non mi serve Vabbè, comunque si Servirà Ah, dobbiamo evitare Che questi tornano qua dentro Se no c'è menano Eh Come possiamo fare? Eh, semplicemente Ma scusa, ma che è sto rumore? Sono loro Sono loro Ma perché Cos'è che stanno facendo Per fare questi testi? Eh, tu che ti fai Questa domanda Metta, zitto Dove cacchia la bandiera? Ok, la bandiera l'ho vista Piano piano Mi avvicino Piano piano E poi Cavolo Questi sono ancora Toiti di l'ipodi Attenzione Sento Ma Non suddito Sento che l'ho vista L'ho fatto No Che l'elicottero? Ho dimenticato Che c'è anche Che bisogna Fa fuori l'elicottero Come l'elicottero? Ho dimenticato Che c'è sta pure L'elicottero Che dobbiamo fa fuori E come lo fanno fuori? Con niente L'abbiamo venuto Di se bazzucca Acquaricchi E non ce l'ho Ma a modo Dove cacchio Che si torna indietro? Eh scusa Nicchia Ma se invece Eh no E come lo fanno fuori L'elicottero No 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 Ma loro non Droppano le armi Se andiamo nelle loro casse Che cavolo Successo? Eh niente Ho bevuto l'acqua Ma è velenosa Ah perché bisogna bere? Sì ma è velenosa Sta dannata acqua Sì ma ora A questo Non ci ho pensato L'elicottero È impossibile Farlo fuori Con quella Si può farti Acqua di cacca Eh l'elicottero Minimo ci voleva La pistola Ma non ce l'abbiamo Ah beh Almeno A sapere che In realtà Non è proprio impossibile Ci vuole Ci vuole La pistola Qualcosa Ancora acqua Ci stanno intercettando Però aspetta Magari sparisce St'elicottero Dopo un po' Ma dov'è l'elicottero Che io non lo vedo Poi Lo vedi da qua No Cacchio Il buco Oh 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 Ferri Ce n'è Ok aspetta Ce n'è due Nell'acqua Facciamo il giro Largo Facciamo il giro Largo Non è Il largo Ci stanno Seguendo Una barriera E ci All'architettonica la famo ogni che ti sto inseguendo dove annagghi a te petta poti che se lo portiamo qua ti facciamo una trappola ma trappolo cavolo che faccio come la faccia trappola all'infinare lì dentro e poi lo diamo su ask to me è possibile fa troppi danni fa troppi danni moris no ragà mission impossible mission in box ball oggi body me sta facendo spiegare tutto il ferro che ho craftato c'è tutto il ferro che ho fatto io ci siamo tutti lì veramente ho detto poti non ci andare di là è dove stavo portando io non è che volevo andare alla base ma io che ne so di stasera cosa stai facendo che ci sono i militari cioè ragà ma i militari l'avete mai visti su macra ma cioè io ti dico abbiamo le pistole non trovi militari le pistole ma che ne so che fa è che poi c'ha un mucchio di vita quei disgraziati hanno un mucchio di vita ma sai che senza piccone non ci risolvo niente perché tanto tutto quello che troppo rimane dentro una lapide la lapide va spaccata cioè i miei bei picconi tutte e due persi subì continue però almeno togliendo la bandiera non spawnano più però se non fa e che non c'è manco un arco non c'è niente ma scusa ma se riusciamo ci stavo dicendo loro per caso hanno delle casse che magari troviamo un'arma cosa ne so se c'hanno ma tanto non ti fanno avvicinare alla loro base non vedi la prima quando li uccidiamo ma te vedono da 20 chilometri questi da lontano già adesso ora facciamo mercenari veri arma 3 facciamo il giro facciamo il giro largo stavolta è bello che già c'ho fame però siamo molto vicini non ci hanno visto perché ho tolto la bandiera o pare libero infatti non è che ci stanno cercando fuori ritroviamo entriamo dentro chiamolo troppo ci hanno fatto fuori tre volte di fila aveva tutta la mia roba tutta la mia roba tutta c'è un cecchino c'è un cosa di cecchino si si aspetta che devo buttare qua mamma mia via 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 la mela veramente me la vorrei mangiare ok dai aspetta 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 oh beh pare che non c'è nessuno dai aspetta un attimo non manca una casa questo indirete hai recuperato la tua roba almeno e dove resta o almeno c'ho la pistola o mi hanno dato i scarponi quando combattimento è quella la mia roba secondo te aspetta questo non lo so quale roba no no quella nella tua tu sei morto dove la mia roba dove c'è la x e la tua roba no io vedo la quale delle due aspetta perché la se c'è qualcosa ci fa fuori io ho il cecchino eh ma poi bisogna vedere se c'hai anche i colpi eh si ne ho sei ok oh meno male che l'elicottero se ne è andato perché sennò col cavolo e che lo faceva fuori io ho anche come si chiama il binocolo per vedere bene centrale ok aspetta 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 è strano che non ci sta una cassa almeno una qualcosa tutta sta fatica per niente vabbè no niente niente no a meno abbiamo trovato due armi nuove ma possibile c'erano solo quattro militare più o meno neanche se continuavo c'è se non toglievi la bandiera i militari erano infiniti eh e così ci spawnavano armi a gogo all'infinito sì ma gogo pare facile farli fuori hai visto quanto male che fanno ah qua è la cassa ho trovata bella sta cassa sta cassa me la porto è una cassa piccola ma molto ampia aspetta un po' sta cassa me la porto e chieni chieni sta cosa nick che cosa quello ferro metallo metallo ferro non so ok no però cavolo soltanto soltanto una cosa a spell i sopra io e il mio letto ce l'ho vuoi dormire qua ok qua c'è una cosa poco chiara la vedi che quella cosa che ma questa è la tua roba ah è vero piazza il letto piazza il letto che dormiamo subito va eh un attimo a capire come ok ta 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 ok vai così almeno raga prima che ci ammazzano di nuovo i mostri almeno ci dormiamo sopra ok ok recupera il letto perfetto un attimo che mo mi rivesto che ho culetto di fuori ma a sto punto sai cosa credo credo che son despaunati forse una volta che togli la bandiera se t'allontani gli spariscono ah beh può essere vero forse allora io ho tutta la roba dai si si son morto qua sera se è qua se c'è è qua ah no ma aspetta ma sono io le ali era la tua roba questa beh mista magari no perché tu ero tu mi hai detto prima di morire ho recuperato le tue cose capito ah può essere può essere che abbiamo qua un po' di esperienza ah qui c'è altra roba non mi fotte le tue ali non so neanche come si mettono ok ci sta un bel po' di roba qua mo piglio ma che è tutta sta robaccia madonna quanta roba che c'è in giro robaccia eh ma che cavolo è tutta sta roba qua un taroncino ma si andrà preoccupato l'importante che abbiamo recuperato le cose importanti dai io direi di tornare in base si torniamo a casa che sinceramente non c'è voglia di schiatta due volte dai che ci hanno guadagnato due armi dai ok tutto sommato comunque non era previsto raga ma almeno a quel punto non mandava di sicuro di perdere tutte le mie a proposito ah eccolo qua il mio piccone quello buono meno malo ah quello mi interessa ah è con control left che si zoom ah sì 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 vabbè no io l'ho cambiato uh meno male oh ma casa dove stanno? come che si corre? ma forse perché sono pesante non mi fa correre no devi schiacciare due volte w oppure hai fame e non ti fa correre ah ecco 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 quello va bene ragazzi noi concludiamo qui questo gameplay tanto mo torna a casa sistemo le varie cose e chiudo insomma quindi speriamo tanto raga che questo gameplay vi sia piaciuto mi raccomando se volete altri gameplay come questo con poddi dovete lasciare mi raccomando tanti beh mi piace tanto supporto da parte vostra mi raccomando quindi anche ragazzi eh iscrivetevi commentate e vi lascio in descrizione il link del canale di podrak e anche trovate il link per poter scaricare il modpack o anche per poter comprare minecraft scontato se non ce l'avete già ragazzi quindi detto ciò vi salutiamo ci becchiamo presto ciao alla prossima ciao